è il giorno in cui tutti gli aquilani si riuniscono per un evento unico basta, odio, solo amore per Natale, solo amore è bellissimo, è sempre bello tornare a casa innanzitutto, senza organetto non è viagilia buon Natale, buon Natale comunque io faccio un appello, venite in tanti alla vigilia perché è un momento indimenticabile è un bel pienone, è un po' tosta, però siamo felici ritornare in centro è stato bellissimo, è divertentissimo soprattutto vedere tutta questa gente, gli abbracci, il calore, l'atmosfera natalizia, il rosso, tutti quanti i cappellini di Natale è bellissimo da Avezzano, viva e tutta l'Aquila buon Natale a tutti quanti sicuramente è una bellissima esperienza rivedere tutta questa gente all'Aquila anche perché la nostra amata città aveva bisogno di questo sprint la vigilia più bella del mondo solo all'Aquila, mi dispiace Siamo veramente molto contenti che dopo questi due anni di chiusura finalmente si sia ritrovati in una collettività, in una festa così importante, molto sentita per gli Aquilani Buon Natale Buon Natale a tutti Buona Vigilia Buona Vigilia